Focus, oggi on the web, il viaggio in diretta on the road, come si dice, diciamo, sulla strada, attraverso i siti internet, attraverso la parte migliore di internet, cioè quei siti che ci fanno scoprire le notizie più sorprendenti e più importanti, più utili alla nostra salute e alla nostra vita. Cominciando dalla osservazione di cosa è successo al nostro pianeta negli ultimi 37 anni attraverso Google Earth, uno strumento mozzafiato perché ci consente di viaggiare nel tempo, qui siamo sul sito di Passione Astronomia, un sito che vi invito a visitare perché è molto interessante. Quindi dicevamo Google Earth, uno strumento mozzafiato che ci consente di viaggiare nel tempo con un timelapse, come dicono, un lasso di tempo degli ultimi 37 anni, pensate, della località che si desidera osservare. La procedura è veramente semplice, si clicca e basta collegarsi, come vedete qui, se le immagini sul sito Google Earth, ma vedete in basso, ecco parte dall'84, vedete in basso, poi 93, 94, 96, vedete come cambia il panorama, come si sciolgono i ghiacci, vedete? Arriva al 2022 poi riparte dall'84 e quindi possiamo persino digitare la nostra zona di interesse, per esempio andando qui vedete sulla destra, seguite il mio mouse, sulla destra si può cliccare e poi digitare non so, digitare la zona che vogliamo visitare, per esempio Salerno, ecco facciamo una città della Campania, poi facciamo ok, eccolo qui, Salerno e la vediamo, vedete sempre dall'84 al 22, vedete com'è interessante, vedete la urbanizzazione, la cementificazione, la città che cambia perché ha bisogno di spazi, ha bisogno di dare case agli abitanti, ma è costretta anche a cementificare, vedete il cambio attraverso gli anni, come cambia la urbanizzazione di una città. E poi si può anche esplorare dell'altro, per esempio che cosa accadrà con, facciamo un esempio, andiamo avanti con l'inalzamento del livello del mare, il destino delle città costiere, molto molto interessante, Google Earth, quindi potete andare su Passione Astronomia e quindi scoprire tutte queste cose così interessanti, come cambia la nostra vita negli ultimi 37 anni. Ma restiamo sui cambiamenti, sul mondo che cambia, spesso cambia in peggio, purtroppo bisogna constatarlo. Ecco, per esempio sul sito internet che adesso Cosimo, la Monica ci fa vedere, su Hardware Upgrade, dove parla lui titola Ocean Drifter, che sono una classifica delle foto simbolo dell'inquinamento marino che ha vinto quest'anno il British Wildlife Photography Awards, vincitrice tra 14 mila foto, pensate, proposte provenienti da tutto il mondo. L'immagine rappresenta, come dire, una metafora potente dell'impatto dell'eterio delle nostre attività antropiche sull'ecosistema marino. Ecco, la foto che ha vinto è questa, vedete un pallone galleggiante, comunque devo intervenire per chiudere queste maledette pubblicità che spesso ci disturbano, ecco, vedete un pallone lasciato così alla deriva che però poi si popola di queste cozze ostriche, di questi mitili, un rifiuto che si erge come un simbolo inquietante dei danni causati dall'inquinamento dai rifiuti solidi, mentre i crostaci che lo ricoprono raccontano una storia ancora più allarmante. Questi organismi non sono originari delle coste britanniche, perché questo pallone è stato trovato così a largo dell'Essex, delle coste britanniche. La loro presenza indica che il pallone ha compiuto un lungo viaggio attraverso l'Atlantico, trasportandoli involentariamente con sé potenziali specie invasive, perché l'arrivo di specie non native, favorite dalla dispersione di rifiuti plastici, ecco, facciamo partire questo video molto interessante, molto istruttivo, che cosa fa questo arrivo di specie che non sono autoctone, cioè non sono originarie del luogo, rappresenta una minaccia per gli ecosistemi locali e questi organismi invasivi, privi di predatori naturali, possono proliferare poi rapidamente causando quale effetto? Soppiantando le specie locali e alterando quindi irreversibilmente la biodiversità, cioè gli equilibri ambientali. Questi rifiuti possono trasportare, come abbiamo visto, creature che poi potrebbero sopravvivere in acque improprie e diventare specie invasive. Una maggiore quantità di rifiuti umani in mare potrebbe aumentare il rischio che altre creature poi raggiungano le nostre coste. E questa vittoria di questa foto di Ocean Drifter al British Wildlife Photography Awards non è solo un riconoscimento delle eccezionali qualità artistiche e tecniche del fotografo, ma anche un monito per noi, per la società contemporanea. Questa immagine potente e simbolica del pallone che si popola di Mitili ci ricorda che le nostre azioni quotidiane, quello che facciamo noi uscendo in mare, stando sulla spiaggia oppure uscendo in barca, eccetera, hanno un impatto poi terribile, tangibile, sull'ambiente naturale. Bene, stiamo a quella sporca dozzina che è un po' una parafrasi del titolo di un famoso film degli anni Sessanta, diretto da Robert Aldrich, grande regista. È sul sito di, ecco andiamola a vedere sul sito, eccolo qui, di 6EBC, Filadelfia e il video. È l'analisi dell'Environmental Working Group sulla situazione della frutta e della verdura, diciamo, dobbiamo un po' inquadrarla meglio per farvela vedere più, diciamo, in maniera più eloquente. Eccolo qui, lo centriamo un po' e cerchiamo anche di allargarlo. Eccolo qui, e ve lo facciamo vedere. Eccolo qui, sono, come dire, è la situazione della frutta e della verdura, con particolare attenzione alla contaminazione da pesticidi. Come sempre le analisi più recenti sugli alimenti portano a stilare l'ardirtidozen, cosiddetta, cioè la sporca dozzina, ovvero l'elenco sulle tipologie di frutta e di ortaggi che tendono ad essere coltivati con più pesticidi, sostanze che poi inevitabilmente ce le ritroviamo nei nostri cibi che portiamo a tavolo. Quindi mi raccomando sempre, cose che raccomandiamo sempre a noi stessi, di lavare bene la frutta, lasciarla in acqua per almeno 10 minuti. Anche stavolta questa indagine si è basata sui dati più aggiornati ottenuti dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. Quello che è stato riportato dunque si riferisce specificamente alla situazione negli Stati Uniti, ma noi potremmo vederla anche tra di noi, sulla nostra tavola, insomma, se più o meno siamo nella stessa situazione degli americani. La sporca dozzina non dovrebbe essere interpretata come un suggerimento a evitare di consumare frutta o verdura, per carità, anzi dobbiamo consumarla. Anche quelle più contaminate basta guardarsi con cautela, anche se è preferibile ovviamente optare per frutta o verdura provenienti da agricoltura biologica oppure non trattata. Quando ciò non è possibile, comunque è consigliabile sempre consumare abbondante frutta e verdura ben lavata, prediligendo magari le varietà che magari vengono a chilometro zero, come si dice, sono generalmente meno contaminate. Secondo il rapporto 2024, il 75% dei prodotti freschi non biologici venduti negli Stati Uniti contenevano tracce di pesticida, ma anche da noi è la stessa cosa. Gli esperti li hanno lavati, sbucciati, come si farebbe a casa, come li facciamo noi, prima di testarli per vedere quali sono le tracce dei pesticidi. Andando avanti, quattro dei cibi più frequentemente popolati da queste diphtidozen, cioè da questa sporca dozzina, sono fungicidi. Secondo il rapporto 2024, il 75% dei prodotti freschi non biologici venduti negli Stati Uniti contenevano tracce di pesticidi e gli esperti li hanno, l'abbia detto, lavati, sbucciati. Quattro dei cinque pesticidi trovati più frequentemente sono fungicidi, abbiamo detto, la classifica è questa, fragole al primo posto, attenzione, sono il frutto più contaminato, quindi bisogna tra lavarle per bene, spinaci a seguire, cavolo riccio, cavolo verde, senape, uva e pesche, pere, pesche nettarine, mele, peperone e peperoncini, ciliegie, mirtilli e fagiolini. Ma in contraposizione alla Dirty Dozen c'è anche la Clean 15 che include alimenti con una minore quantità di pesticidi rilevabili. Ecco la lista completa, questi sono quelli meno contaminati, carote, patate, mango, funghi, anguria, cavolo, chili, melone, melone verde, asparago, piselli, papaya, cipolle, ananas, mais dolce, avocado, sono frutta e ortaggi i meno contaminati. Bene, passiamo, dobbiamo andare veloci perché il tempo passa, passiamo ad un altro argomento e cioè la sovrappopolazione, un argomento che domina sempre i media, i giornali, le televisioni, che parlano di traguardo, entro i prossimi anni, prestissimo, arriveremo a 8 miliardi e mezzo. Però c'è, attenzione, chi la pensa all'opposto, diversamente, perché Focus, la famosa rivista, Focus che è anche una rivista multimedializzata, la trovate anche su internet. Dunque, citando la rivista Lancet, titola il contrario, eccolo qui, altro che sovrappopolazione, il futuro della Terra è a bassa fecondità, cioè è il contrario di quello che leggiamo. Nei prossimi decenni il calo delle nascite potrebbe essere un problema più grave rispetto alla sovrappopolazione. Lo dimostra un'analisi pubblicato su Lancet che prende in esame il tasso di fecondità totale. Insomma, il numero di figli per donna è indicatore in declino praticamente ovunque nel mondo. In generale, per poter sostenere un ricambio generazionale a lungo termine, il numero medio dei figli nati per donna nell'arco dell'età ferita dovrebbe essere pari o superiore a 2, attenzione, 2,1. Ma questo valore, lo sappiamo, è in calo un po' dappertutto e già nel 2050 il 76% dei paesi avrà un tasso di fecondità inferiore. Entro il 2100 saranno in corso in questo problema 198, pensate, sui 204 paesi considerati nello sud, il 97%. La ricerca è stata condotta dall'Institute for Health Metrics and Evaluation della Scuola di Medicina e Università di Washington. Se è pur vero che praticamente ovunque si registrerà un calo del numero dei figli per donna, ci sarà comunque un mondo demograficamente diviso, caratterizzato da livelli ancora relativamente alti di fecondità in pochi e popolosi paesi a basso reddito. E poi, africano un neonato su due, eccolo qui, nel 2021 il 29% dei nuovi nati provenivano da paesi dell'Africa subsahariana. Nel 2100 nascerà in questa regione il 54% invece di tutti i bambini, più di uno su due insomma. Il tasso globale di fecondità si è più che dimezzato negli ultimi 70 anni passando da circa 5 figli per donna nel 1950 a 2 e 2 nel 2021. Quale soluzione? Non esiste una ricetta magica, ci sono molti punti di vista. Il declino della fecondità è una storia di successo che riflette grandi progressi, indubbiamente, perché sempre più donne cercano di sfruttare opportunità di istruzione, di lavoro, un traguardo indispensabile. Si può però investire su politiche sociali che migliorino le nascite come migliori congedi parentali, asili inito gratuiti, incentivi finanziari, una maggiore garanzia di diritti nel mondo del lavoro. Insomma c'è un modo per compensare l'esigenza delle donne di essere più importanti nella vita e nella professione, ma anche esigenze di essere utili alla famiglia. E concludiamo con un argomento che dicevamo nei titoli che sogniamo tutti, cioè le abitudini per diventare, per essere insomma più felici. Ne scrive sul suo sito, lo vedete qui, ce lo fa vedere Cosimo, la Monica sul suo sito, Psycho Advisor, con un titolo affascinante, quattro abitudini che secondo le neuroscienze ti rendono davvero felici. E poiché andiamo molto veloci, dobbiamo andare molto veloci, andiamo subito al nostro video, perché tra le abitudini la prima è per quale motivo devo essere grato oggi e quindi essere grati a qualcuno stimola il cervello. Seconda abitudine, ecco e qui può partire il nostro filmato, dai un nome alle emozioni negative. Quando ci sentiamo a terra spesso cerchiamo di nascondere a noi stessi e agli altri le ragioni del nostro malessere, ecco siamo accompagnati da questo fumetto molto eloquente, cerchiamo di nascondere insomma perché siamo, insomma abbiamo i nostri malessere. Ecco per migliorare la nostra condizione si consiglia di dare un nome alle emozioni negative descrivendolo in poche parole o usando un linguaggio simbolico fatto di metafore o semplificazioni. Ciò richiede di attivare la corteccia prefrontale che riduce l'avanzamento del malessere nel sistema limbico del nostro cervello. In sostanza descrivere un'emozione in una o due parole aiuta a ridurre le emozioni stesse e quindi si cerca di eliminare, cerca di eliminare, dicono gli psicologi, dal tuo vocabolario frasi generiche o qualunquiste come mi sento male, mi sento bene, un senso di malessere eccetera. Perché? Perché non vogliono dire assolutamente nulla, danno solo un senso di confusione a te e a chi ti sta accanto, ma impara a conoscere e a definire le tue emozioni. E allora ti senti male? Che nome daresti a questo male? Tristezza? Paura? Insomma definiscilo, consiglia Corb, il grande psicologo che diciamo ci racconta questa esperienza, descrivendolo in poche parole o usando un linguaggio simbolico fatto di metafore o di semplificazioni. E ciò richiede di attivare la corteccia prefrontale che riduce l'avanzamento del malessere appunto nel nostro cervello. In sostanza descrivere un'emozione in una o due parole aiuta a ridurre l'emozione stessa. Terza abitudine, prendi una decisione, è importante. Le neuroscienze dimostrano che prendere una decisione riduce la preoccupazione e l'ansietà e aiuta a risolvere i problemi. Prendere una decisione implica creare delle intenzioni, porsi degli obiettivi da raggiungere. Tutte queste attività fanno parte del circuito neurale. Prendere una decisione aiuta anche a superare l'attività dello striato del nostro cervello che in genere spinge verso impulsi negativi. Infine, prendere una decisione cambia la nostra percezione del mondo perché si trovano delle soluzioni sempre ai problemi calmando il sistema limbico. Quarta abitudine, cerca un contatto fisico. È importantissima la sensazione di essere esclusi. Attiva nel cervello le aree del dolore attraverso il contatto fisico. L'organismo rilascia la famosa ossitocina, quell'ormone importante che può definirsi un vero e proprio farmaco del benessere perché il suo sistema attiva le endorfine e riducono il dolore. Ovviamente non è sempre appropriato toccare, sfiorare le persone, ma contatti poco prolungati, come ad esempio strette di mano o pacche sulle spalle, di solito sono accettati. Con le persone vicine fate lo sforzo maggiore di toccarle più spesso. Dunque avere un contatto fisico è importante, è un atto molto potente a cui spesso non diamo abbastanza importanza, ci rende invece più convincente, aumenta la performance in team e migliora la capacità di flirtare.